Siamo ai voltari di Kawa e io non ho la mente e facciamo sta cosa che è più caro che non si muove e non c'è un volo come fa tutto qua perché stiamo leggendo la mente vai! 1, 2, 3, 4! 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5. è stato un piacere